12 luglio, Sherwood Festival, la tempesta nella foresta e rientriamo in studio con niente poco di meno che il DJ della serata, UFO. Buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori amici. Caro UFO, è molto bello rivederti qui, intanto. L'anno scorso sei venuto qui per aprire il festival e quest'anno per chiuderlo. Sì, ci piace fare da P e da C, che è un'espressione dialettale che ora non posso tradurre in questo momento. Sì, questa volta, approfittando dell'anno sabaudo dell'Eisen Silcus, mi sono riproposto, come il DJ, che è un'attività che facevo già ai tempi del centro sociale Macchia Nera, dove ho cominciato poi appunto a portare i miei vinili e ho cominciato a metterli dentro il centro sociale, così per farli ascoltare alla gente. Poi le persone hanno cominciato a ballare e io comincio a fare un po' di serate così. Poi gli Zen che le mettono più sul sopravvento, se no che adesso, che c'è quest'anno sabaudo, come dice mia madre, ricomincio un po' a fare un po' lo scemo con i vinili. Mi sembra giusto, fra l'altro questo è uno spazio sociale, è uno spazio diverso e anche Macchia Nera è uno spazio sociale e a voi, anche come band e a te in prima persona, sembra sempre stato importante come aspetto quello di suonare in dei posti che vi piacciono, dove si medita oltre che suonare. E in questo caso anche per il Macchia Nera tu ti sei impegnato in prima persona, quando ci sono stati dei problemi nei mesi scorsi. Sì, Macchia Nera, ahimè, non c'è più come luogo di socialità, ci sono stati altri realtà che hanno raccolto il testimone comunque sì, di un tipo di incontro diverso dal divertimento fischio che proponga, appunto come hai detto giustamente te, altri tipi di socialità che non sono quelli diciamo del divertimento fischio. Fino a se stesse, adesso c'è un'altra realtà a Pisa, abbiamo il centro con l'ificio occupato, abbiamo il Nevroz, abbiamo altre realtà che hanno preso il testimone. E noi, noi Zen, ci siamo conosciuti lì dentro, quindi condividendo questo concetto che l'India era di là d'avvenire, ma il concetto comunque è di un'organizzazione dal basso, dello svago, che poi da lì nascessero anche altre prospettive. E all'interno di questa prospettiva, Nevsky, hai trovato appunto il tuo amore per i vinili, invece che Igor Stravinsky. Ti è dispiaciuto molto oppure ti ha fatto piacere? Molto, molto. Io ho cominciato a comprare i dischi alle superiori, prima così, prima superiore, e poi quando sono diventato un certo mallopetto mi dispiaceva che stavano lì in casa così. Cioè, infatti che il mio spasso principale a quei tempi e con gli amici si ascoltavano i dischi aggiornati, ora chiaramente raccontarlo nell'epoca delle pendrive e diverso, però proprio c'era proprio una... sei, sono vecchio, un po' lo devo farlo un po' pesare, era un pomeriggio tipico, era anche proprio l'ascolto dei dischi, proprio guarda ho comprato questo, il vinilo, guarda, questo, però chiaramente quando i dischi poi sono tanti e voglio farlo sentire a tante persone, cominciai a portarli appunto dentro questo contenitore che era la macchia nera, dove loro intelligentemente avevano una console da DJ aperta 24 ore su 24. Qui a qualunque ora del giorno e della notte uno poteva andare a portarli e cominciare a mettere su i primi rudimenti, che io non sono mai andato oltre quelli, devo dire, chi faccio Selecta, devo essere sincero. E allora caro Selector, ti faccio una domanda, l'ultima domanda, due pezzi, i due pezzi, le due chicche, una che magari hai in valigia e vorresti mettere questa sera e una chicca che se avessi in vinile metteresti di tutto quello che hai ascoltato della Tempesta fino ad ora. È bello questo, questo è bello, però è tosta. Dunque se sei dato qualche singolino ganso c'è, c'è un 45 giri di Zanini, che era un jazzista franzoso, che faceva i 45 giri per divertimento, ce l'ho dietro, forse se c'è l'occasione e il tempo lo metto, e un disco invece di qualcuno della Tempesta che hai voluto mettere. Vorresti mettere magari, avessi il 7 pollici, no? Eh beh, pezzo un pari è il pan del diavolo, sicuro i nostri cumpà, pan del diavolo, però non c'ho il vinile dietro purtroppo. Eh vabbè, li sentiremo sul palco, grazie UFO, al second stage poi. Ciao.